Il commissario alla ricostruzione post-sisma 2016 Giovanni Legnini ha fatto tappa a termo al Parco della Scienza nella futura sede dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione. Presente all'incontro anche il Presidente della Regione Marco Marsilio, l'occasione è stata quella di presentare in maniera ufficiale le due ordinanze speciali in deroga che attribuiscono poteri commissariali al Comune per la ricostruzione di scuole ed edifici pubblici della città e all'Ater Provinciale per quella degli edifici popolari in diversi centri. Alcuni mesi fa abbiamo fatto un'opera incisiva, estesa, prima sul versante della ricostruzione privata con le note decisioni che stanno dando frutti molto importanti, devo dire al di là anche delle mie aspettative. Pensate che nel primo quadrimestre del 2021 abbiamo autorizzato l'apertura di 2.600 cantieri in tutto il cratere, nelle quattro regioni, quindi un ritmo triplo rispetto a quello scorso anno. Adesso con la ricostruzione pubblica, con le deroghe che sono state invocate per lungo tempo dai sindaci, dai presidenti delle regioni e che noi stiamo iniziando ad attuare. Taramo è una delle città più investite da questa esigenza con le due ordinanze che sono ormai note. Adesso il rispetto dei tempi spetta i soggetti attuatori al Comune di Taramo, all'Ater di Taramo. Sia il Comune sia l'Ater hanno partecipato attivamente insieme all'USR alla definizione di questo testo, quindi sono procedure e decisioni da loro condivise. Uno strumento necessario, vitale, per sbloccare la ricostruzione pubblica non solo nella nostra città ma in tutto il cratere sismico centro Italia. Abbiamo portato avanti delle battaglie forti come Anci e con il lavoro del Commissario, insieme al Vice Commissario Marsiglio e a tutti i sindaci del territorio, siamo riusciti ad ottenere questo importante risultato. Lo abbiamo voluto fortemente su Taramo e lo abbiamo voluto fortemente non solo per quanto riguarda gli immobili e le strutture pubbliche della città di Taramo ma anche per l'Ater. Ecco perché ho chiesto che anche l'Ater attivasse i poteri e sono soddisfatto del fatto che così è stato. Abbiamo due ordinanze, l'ordinanza Taramo che riguarda appunto il patrimonio scolastico prevalentemente e la sede municipale. Abbiamo un'ordinanza che quota complessivamente 32 milioni di euro, dei quali 23 milioni già finanziati con l'ordinanza 109 e più, ecco, abbiamo aggiunto, formidabile obiettivo raggiunto, l'inserimento della scuola Molinari. 9 milioni di euro di finanziamento per la scuola Molinari che è di fatto un po' lo scolastico naturale che costituisce una ricostruzione strategica per la riqualificazione e ricostruzione del patrimonio scolastico. Grazie a tutti.